alice belli alice belli allora avete visto oramai la catchphrase sta praticamente dappertutto e io mi sto divertendo un mondo come va come andiamo marco tecce come andiamo benvenuto sul canale iscrivetevi al canale amiche ed amici bellini di tutto il mondo unitevi uniamoci e lasciamo i like come avete ben fatto sulla reazione di ieri ovviamente non ho potuto fare mi sarete resi conto non ho potuto fare la live post partita perché il che fare mi imponeva di essere chitarrista ieri e ogni tanto si deve fare ciao mamma sono chitarrista e andiamo a rivedere un attimo a rivedere a rivivere ad analizzare questa partita tatticamente è molto semplice da spiegare c'era una squadra che non aveva intenzione di giocare a pallone e un'altra che aveva intenzione di farlo se noi andiamo con un ambrabam tattico subito a vedere cosa stava succedendo sul campo anche la scelta di lozzano rispetto a un politano che ha più fase difensiva e ce la sta facendo vedere ti fa capire che spalletti l'aveva pensata l'ha detto anche in conferenza noi vogliamo essere noi dobbiamo pensare a noi non dobbiamo rifarci alle caratteristiche dobbiamo stare attenti dobbiamo fare le preventive e anche in conferenza lui lo dice però ragazzi e qua ci ritroviamo di fronte che la roma ha fatto un xg perché poi ho sentito dichiarazioni di murigno e cose strane allora 0 21 solamente sapete chi solamente il monza ha fatto peggio della roma il monza il napoli che vince col monza seconda giornata che io ero allo stadio grande partita il monza non si affacciò proprio ed era un monza anche molto diverso monza stroppiano stroppiato che non si affacciava adesso il monza è decisamente diverso e so 0 21 cioè questi pallini azzurri che vedete lì che sono le occasioni della roma ma perché sono tiri che sono bloccati io a meret devo dare senza voto e non mi dispiace per il ragazzo ma proprio per stabilire che la roma non si è mossa proprio che cos'è questo che la roma niente proprio niente 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 bisogna dirlo e quindi meritavano di più ma meritavano cioè volevate lo 0 a 0 e non l'avete avuto perché così mi hanno fatto un gol straordinario ma il napoli 0 87 si avvicina al gol fatto è stata una partita la roma ti fa giocare male bruttina non non proprio pulitissimo anche il giropalla del napoli è forse la partita in cui mi è piaciuto di meno l'obotca finora ed è giusto una partita che poteva essere una famosa partita la frase che tutti no l'anno scorso queste partite non le vincevamo che io vi contesto perché abbiamo vinto anche delle partite bloccate l'anno scorso stavolta il tostapana stavolta io vi dico l'anno scorso queste partite non l'avevamo cioè questa partita non queste partite in generale questa partita non l'avevamo vinta fu 0 a 0 e fu un peccato tutti quanti dissero vabbè vabbè con la roma ci sta perché venivamo dalla striscia incredibile no quando le squadre sono più scarse di te e non propongono niente e anche se hanno il nome della sorella no è un peccato assoluto e ti dimostra che tu devi fare qualcosa in più se vuoi veramente dimostrare ed essere però quest'anno si è fatto così si può parlare se tutto quello che volete voi già sentivo nell'aria e però con Raspadori giochiamo meglio è tutto anche giusto è vero e il ragazzo c'ha un modo di giocare diverso ma ha fatto un gol che si deve gridare al fenomeno si deve gridare a si deve si deve tornare io ho detto non basta ma ci sono sono pochi giocatori in grado di di chiudere quel quel tiro con quella potenza e vi faccio vedere uno screenshot perché è bellissimo è proprio il momento dell'impatto a parte che fa i passetti e che bello che faccia i passetti al momento dell'impatto proprio preso di collo piedo piene collo piedo in questo momento e poi il secondo screenshot proprio di una potenza straordinaria il secondo screenshot vi fa capire che la palla prende anche un giro di leggero esterno perché altri così fai fuori completamente lui patriso la pala qua sembra uscire sembra andare oltre al palo ma poi girerà e toccherà proprio la rete la parte della rete che fa è stato un gol da perdere veramente da perdere la testa un'altra cosa che vi volevo far vedere che avevo preparato il momento esatto il momento proprio del passaggio questa è una cosa che napoli fa spesso lo può fare con politano spesso lo fa con politano lo può fare anche quara quindi l'importanza dei piedi invertiti quando si arriva con osimene specialmente non con raspadori perché osimene punta distinto sempre dietro e quindi questo passaggio al volo di prima osimene bene che sei un po' più indietro te l'ho detto te lo fai lo stesso in velocità non c'è problema e smalling sta facendo una grande partita su osimene e qua poi se lo brucia smalling tenta la disperata di intervenire sul pallone ma niente da fare molto 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 bene c'è poco altro da far vedere bisogna ricordare però le azioni fatte perché ci sono stati pericoli lui patricio ha fatto delle parare meret no quindi è importante dire si comincia con il quasi autogollo di smalling non ce lo dimentichiamo perché poi a volte non esce negli highlights e poi ve lo dimenticate no il tiro di zaniolo alto dove l'obotica si era squagliata e là già dovevamo capire che non era la partita di l'obotica alto abram che tira fuori non me lo ricordo nemmeno poi c'è zaniolo fermato da jj nel primo tempo c'è stato un po più di equilibrio zielischi che tira di sinistro centrale lo zano al volo servito da olivera era pure difficile da prendere poi c'è l'occasione di ndombele che scambia con zielischi quel rigore non rigore ma terracciano fiorendino all'inter si dà va benissimo non fa niente ce l'abbiamo fatta però se ne parlasse perché l'arbitraggio di irrati al di là del rigore perché il rigore è tutto quello che volete voi ci può stare che lui l'ha toccata per un centimetro va bene ma l'arbitraggio di irrati con falli chiamati proprio al contrario con i cartellini strani eccetera eccetera è stato irritante irritante assolutamente e la roma sono sicuro che può dire anche lo stesso quindi un arbitraggio inadeguato in generale che poi noi da tifosi guardiamo le cose nostre eccetera eccetera ci sembra anche un pochino proprio a bloccarci a non farci giocare e poi un tiro di lo zano centrale nel primo tempo nel secondo tempo tiro formidabile di lo zano parato l'occasione di kvara bloccata da smalling sempre assist di zielischi elmas bloccato da smalling assist di zielischi quindi zielischi molto dentro al gioco quel tiro al volo di juan gesù fuori e la sbucciata un pochino con il sinistro poi c'è un cross di zaniolo tutto qui poi smanacciato da meret e sul poi sul ribaltamento di fronte o simer che tira fuori servito da lo zano e quella cosa lì ci dicono che c'era tipo il 28% di possibilità di farlo perché poi ci sono statistiche eccetera eccetera mentre il gol vero e proprio aveva una possibilità di diventare gol di 3.6 una cosa che quindi ha fatto un gol impossibile si è mangiato un gol più possibile e ce lo dice anche spalletti in conferenza poi c'è direttorosi che ci provoca da dietro al centrocampo con quella sorta di pallonetto mi è piaciuto l'ingresso di elmas mi è piaciuto molto l'ingresso di gaetano e politano che poi ha fatto il passaggio decisivo un dombele ancora così e così però gli do 5.5 andiamo a fare i voti immediatamente quindi mi dispiace meret non è per te assolutamente non è per te ma il senza voto è per murigno perché vuol dire che la roma non ha nemmeno reagito dopo aver subito il gol di lorenzo 6.5 poco da dire in difesa ma si propone fa le verticalizzazioni di di lorenzo che sono molto interessanti do 7.7 a kim e guangesus guangesus qualche sbavatura se l'ha fatta vedere però sono stati molto attenti e gli attaccanti della roma e chi li ha visti a olivera do 7 ma do un 7 più perché mi è quello che mi è piaciuto di più di tutta la difesa si proponeva sta crescendo tantissimo fisicamente ci fa vedere quelle cose si ingobbisce e va va fino in fondo molto molto bene è la prima volta che devo dare un 6 stream in situ all'obot che mi è sembrato un pochino meno brillante delle altre volte andon bele che pensavo di dare 5 perché avevo negli occhi qualche palla persa ritardo di condizione ritardo sui palloni alla fine lo alzo a 5.5 per l'occasione del rigore che si va a procurare lui che poi non finisce a buon fine a zielischi 6.5 molto nel vivo del gioco l'abbiamo visto con i potenziali assist partiamo da Lozano, Lozano mi è piaciuto molto, molto vivace, conferma lo stato di forma gli do 7 anche se non trova il gol, a Osi devo dare 8 quel gol merita da solo, il voto alto per Osime perché è un gol da urlare se lo avessero fatto nelle squadre che sappiamo tutti così se ne parlerebbe per settimane e settimane e invece è Osime, a Kvara diamo 7, sembra quella partita in cui lo bloccano, lo ingabbiano però alla fine cresce, cresce durante la partita e mentre gli altri si stancano lui è ancora tranquillamente efficace nei dribbling, fisicamente resiste, tosto e poi Elmas mi è piaciuto l'ingresso 6.5, mi è piaciuto l'ingresso di Gaetano abbiamo detto 6.5 e diamo 7 a Politano perché quell'assist per il gol di Osime è straordinario l'anno scorso non le vincevamo, l'abbiamo detto Spalletti ci dice ero anche tentato di mettere Raspadori quindi chi ha visto la mia reaction sa che a un certo punto io ho detto c'ho un'idea pazza mettere Raspadori al posto di Lobotka, scendere Zielinski e fare il 4-2-3-1 ci aveva pensato pure Spalletti, non era proprio così pazza Gaetano è un talentino e ci spiega le cose buone che ha fatto e anche quelle che poteva far meglio bravo, bravo mister perché è lì così e poi quando si vuole per forza parlare di Scudetto quando si vuole per forza parlare che tipo di impatto fanno queste 11 partite Spalletti fanno più effetto a te che non a me le 11 partite sono il segnale che abbiamo vinto 11 partite i titoli non si vincono dopo 11 partite questo è il titolo come lo traduciamo questa frase i titoli dopo 11 partite non sono tutti finali non possono essere tutte finali la prossima è una finale adesso sono tutte finali no perché non sono titoli se fossero tutti finali allora avremmo già vinto 11 partite consecutive 11 titoli invece siamo ancora a 0 titoli e dobbiamo goderci il percorso senza presunzione zero presunzione resettare tutto come se non avessimo fatto niente poi ci aspetta un'altra partita bisogna tornare in Champions bisogna continuare a fare bella figura è una partita che mi lascia grandissima soddisfazione forse più delle altre proprio perché quando si mette in questo modo quando c'è tanta attesa quando la Roma sembra fare battaglia giocano a calci protestano tantissimo accerchiano l'arbitro l'arbitro che mi sembra un pochino soffrire la squadra di casa l'ambiente dello stadio molti falli chiamati al contrario si crea questa cosa così e sembra proprio che ti stiano ti stiano giocando addosso per non farti fare calcio la soddisfazione è doppia e tripla è quadrupla perché così è bello così è bello quando la squadra che decide di fare gioco alla fine ha il sopravvento anche di un gol anche a corto muso ma meritando meritando veramente fino alla fine e lì la soddisfazione è doppia non tanto perché dovevi perché la classifica è corta ne parliamo più in là della classifica perché ha vinto l'Inter ha vinto la Juve ha vinto il Milan ovviamente vincendo la Lazio ha steccato l'Atalanta e vincendo noi ha steccato la Roma e questo non è male perché nell'idea lo so che voi state pensando questo l'anno va benissimo pensatelo voi continuate a pensarlo io continuo a pompierare ve l'ho detto qualche video fa che quest'anno è più difficile dell'anno scorso perché l'anno scorso non c'era l'Atalanta l'anno scorso Roma e Lazio alternavano cose insimpatiche a cose meno simpatiche adesso Sarri pare che abbia registrato la difesa e la Lazio è ermetica e subisce pochissimo e segna notare quindi stanno lì e vogliono quel quarto posto la Roma va affolate non mi ha dato questa impressione di potercela fare però se tornasse di bala subito se tornasse Wynaldo avrebbero i colpi è una Roma un po' juventina capite quello che intendo cioè con gli specialisti che con la fisicità possono risolvere le partite anche senza giocare benissimo e quindi si giocano quella cosa lì e l'Atalanta che non mi è piaciuta contro la Lazio devo dirvi la verità però è l'inizio migliore della loro storia con Gasperini e quindi molto diverso rispetto all'anno scorso quindi se noi pensiamo che quelle tre stanno lì le famose tre le solite tre il Napoli se le deve tenere dietro da subito e non deve mai mollare la presa è difficile è difficile stare in testa ma questi ragazzi sono terribili sono dei giovanotti che non vogliono sapere niente quindi noi godiamoci il percorso e da New York vale lo fluido e tutto voi lasciate i like che vi siete dimenticati e non possiamo nemmeno prendere fiato perché domani conferenza domani si pensa alla Champions ma che bello ma che bello essere tifosi del Napoli voi che ne pensate? ciao sono Saveria Solita se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram at Valerio Fluido fa tutte queste cose credi sei iscritto pure a TikTok nienti più dai basta basta sei cringe quante cose